buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale oggi ho preparato un golosissimo rotolo di biscotti senza cottura farcito con panna e mascarpone una ricetta davvero fresca golosa e perfetta per l'estate molto semplice e veloce da preparare gli ingredienti di questa ricetta ve li lascio alla fine del video e nell'info box spero che vi piace questa deliziosa ricettina che ho visto sul sito di gnam gnam se lo provate inviatemi le vostre foto sulla pagina facebook 0 glutine 100% bontà sul mio blog trovate tante altre ricette anche senza cottura vi mando un bacio e ci vediamo presto e mi raccomando se questa ricetta vi è piaciuta cliccate un bel mi piace ciao a tutti buongiorno a tutti buongiorno a tutti buongiorno a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.